Ti dico, te lo ripeto, che Gemma non ha soldi. Ha proprio confermato quello che ho sempre pensato, è il più figo di tutti. Lui ha detto che questo l'avrebbe aiutato a farsi conoscere e a conoscerci diversamente. E davvero... Tu sei folle, secondo me, tu sei geniale, sei folle, sei... Ma io ho madre che un giorno mio figlio a 25 anni si presenta con una settantenne. Io, ma solo per il disagio, ma penserei, ma io come madre, ma che ruolo ho avuto, ma che ho fatto? E poi scusa Gemma, posso farti una domanda? Ma se non sei in grado di fare un numero, non lo fare. Come si è permessa, ma come ti permetti tu di dire, ma finalmente portatela via, ma che sono un pacco postale.